Musica Ciao a tutti bentornati sul mio canale Oggi video decorazione agendas Lo so anche oggi sono in ritardo Ma questa settimana appunto ho lanciato Il mio planner kit di Halloween Per cui ho ritardato con la decorazione agenda Siamo quindi ad ottobre E ho già preparato il divisorio Che è appunto il calendario Con su comunque i disegni Che ho fatto io del kit Riguardante appunto Halloween Questo calendario Lo potrete scaricare gratuitamente Sul gruppo di Ewe Planner Lovers Perché appunto l'ho messo tra i vari file Scaricabili Allora io inizio subito la decorazione Questa settimana sarà un po' particolare Perché La farò solo su una pagina Allora il lunedì martedì Li faccio un po' piccolini Perché tanto lunedì è già passato E quindi va bene così E vado a segnare i giorni Come al solito Vado a mettere Lo stickers Del video di Youtube E ovviamente Del plan with me Poi giovedì e venerdì sono in ferie Quindi Ferie Ferie E qui Andrò a creativa Bergamo Quindi farò poi sicuramente un video Sugli acquisti creativi E visto che questa settimana Ho poco spazio Utilizzo Qualche clear stamp Un po' Un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente poi metterò il video degli acquisti che farò a Creativa, però non scrivo ancora quando perché presumo di metterli subito il venerdì. E niente, quindi questa è la mia decorazione agenda e direi che per questa settimana ci sta, scusatemi veramente se sono stata un po' assente dal canale, ma appunto ho voluto realizzare questo kit e ho messo veramente tanto impegno. Anzi, tra poco comincerò a preparare anche il kit per Natale, quindi disegnerò anche un kit natalizio. E niente, ora vado a mettere in agenda la decorazione. Perfetto, questa è la mia settimana. Spero tanto che vi piaccia. A me non dispiace anche se è un po' piccolina, però mi piace tantissimo come ho fatto la copertina mensile di questo mese. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in su e un commento. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!